bottigia guarda che bei frutti mangiare la frutta e prenderla da un albero è divertente più di qualsiasi altra cosa è buono, è gustoso oh ehi Battigia, guarda che mango gigante Battigia, come mai quest'albero è diventato così grande all'improvviso? Battigia, non è diventato grande l'albero? Siamo noi diventati piccoli Battigia, ma che cosa è questo terremoto? wow, la mia nuova invenzione è diventata un albero, è cresciuto durante la notte mangiando questo frutto, un essere umano si riduce di dimensione e diventa più piccolo di un pollice oh, aiuto, aiuto, aiutateci per favore Koji, aiutaci, guarda, siamo qua giù sì oh, ora capisco, abbiamo mangiato il frutto e siamo diventati piccoli oh, aiuto Koji, guarda, siamo qui, ci vedi? Koji, siamo qui pronto? oh sì, tra poco sarò in ospedale Koji, fermati, dove stai andando? Siamo qui! oh, Battigia, Koji è andato via e non ci ha nemmeno visto siamo così piccoli che non riesce nemmeno a sentirci come raggiungeremo l'ospedale della città? dista chilometri di distanza oh, oh ehi, Battigia, sono stanco non posso fermarmi un attimo Koji, guarda, c'è la fermata del bus che va all'ospedale ma Battigia, la fermata del bus è dall'altro lato qui le otto viaggiano a gran velocità è impossibile attraversare la strada siamo rovinati oh, 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 oh Oh!